costare vetro schermo o telefono cambiare vetro guarda che cinese non capisci cosa? cambiare telefono costa quanto schermo cazzo cazzo di cinese! ne su culo da tigetta marigi ma ti conosci a parigi guardate sono che italiani non si capite un cazzo che le chiede poi già ci fanno qualche cosa e tenghe palla abbuffata poi ti metti però tu vi ringerò un po' cazzo e parli l'italiano che ti capisco che cazzo sei tippato? Gigi d'Alessio?